Ehi ragazzi, come va? Io sono Feri e Niki E io sono Stef e che si giochiamo a Fortnite E se è vero, te ne ho visto l'episodio di Fortnite E oggi faremo la 3 chest challenge Lo so che ho detto 3, puoi restare in inglese Oppure 3 forzieri, Feri, magari Non mi piaceva dire forzieri Volevo dire anche 3 chest challenge A fare l'inglese, però mi piace la 3 chest Ok, ok, comunque praticamente Non possiamo lutare le armi che stanno a terra Possiamo lutare soltanto le prime 3 chest Che troviamo, prendere tutto quello che c'è dentro E dopodiché potremo lutare soltanto Le persone che ammazziamo Una sfida molto divertente Proviamo ad andare a condotti confusi No, no, no Eh sì, è qui sotto Ci si butterà un botto di gente, Stef Lo so, lo so Ma 3 forzieri a cesta Perché fa, schi? A cesta Cos'hai detto? 3 forzieri a cesta Anziché a testa, hai detto certo Non si trovano ovunque Condotti confusi ce li ha E comunque pensa Magari prendi un forziere Trovi un fucile a pompa Killi quelli che c'erano qui dentro Lutti quello che hanno E siamo già messi bene Sì, sì, sì Come sì? 2 Dove? 2 contro 2 Sono scenditi dall'altro lato Di fronte a noi Quindi se scendi da qui Siamo un po' più tranquilli Non puoi lutare nulla che sta a terra Ferre, ricorda Lo so, mi ricordo Non ti preoccupare E mi sa che ho visto anche un'arma blu Cos'era? Quello con il mirino Ah, c'era già un pompa verde Stai, siamo più morti che vivi Non trovo chest qui sotto Sì, sì, allora lo staranno lutando già Chest qui? No Chest qui? No Di solito sta in quella Ditemi che almeno quello c'è Ma dai 9 di legna Ti prego Dammi il decimo Ok C'è? No C'è? No? Sì? No Vediamo in queste case Mi sembrano ancora chiuse La zero chest challenge Ok Mi sembrano ancora chiuse le porte Quindi ho buona probabilità di trovarne una nel soffitto Ne sento una Ne sento una Ok Ma trappola posso prendere Io vedo neanche a super di fronte E vediamo cosa trovo Ho visto che comunque c'è una chest Quindi è già qualcosa Ferre, dammi una buona notizia Ti prego Eh, devo un attimino Dimmi che ci trovi un buon fucile lì dentro Spero di non romper l'accidente a me Allora Non so bene dove sia Sento solo rumore in lontananza Eccola qui, eccola qui Se la rompi rido Eh, bah Mitraglietta silenziata Io Quando ci sono tanti fucili d'assalto Qui in zona Io ci sono Fucili d'assalto verde E ho anche tre granate E quelle me le sono presa Mi sa che mi sparo anche lo slurp Per aumentare le possibilità E vedo la miniera ad ammazzarli Che dici? Sì Ci andiamo? Sì Vero? Ma non sono molto d'accordo con te Però uff E beh Ferre che vuoi fa? Eh lo so Però quella cesta era mia E tu me l'hai rubata Perché io volevo fare queste due case E tu sei venuto da me Non è stata una macchina Ah, quindi stai dicendo Quindi sono un po' arrabbiata con te Ah, ok Ok, pensavo No, sono un po' arrabbiata Fa molto, eh Allora E bisogna solo ringraziare Che in sto gioco il fuoco amico non esiste Fossimo in un altro gioco Tu saresti morto Sto cercando ad ignorarti, grazie Ma sai Sopra di noi, sopra di noi Ci hanno anche visto, credo Qui sopra, qui sopra, qui sopra Nel portico, nel portico Stava camminando così Quindi penso che ci abbia visto arrivare E ci volesse tipo prendere alle spalle O qualcosa del genere O forse stava solo camminando accucciato Non ho un'idea Ma sai che non lo vedo? Eh, l'ho visto, eh Sono sicurissima Ah, sì, sì, vabbè Quello certo Ci manca solo che ti inventi i player Però forse è entrato dentro qualche casupola Qualcosa del genere Probabile Ne ho visto solo uno Quindi non ho un'idea di dove ti stai al secondo Ok, giochiamo molto safe Perché loro sicuramente saranno armati di pompa Noi purtroppo pompa non ne abbiamo Infatti mi sembrava avesse un po' Vedo buildare a sud-ovest Ok Penso che mi abbia visto Ok Io mi prendo il pompa Velocce Velocce Mi ha detto che valgono Mi ha detto che valgono Sì, 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 sì Quelli che chigliamo valgono Non me ne frega nulla Le vende Allora Arriverà l'amico a vendicarlo Mi prendo anche questo Ok Dov'è, 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 dov'è Per quello era essenziale finirlo subito Sì, sì, sì Infatti anche io ho sparato a raffica Queste munizioni mi servono Ok, io di nuovo 116 L'abbiamo prosciugato, Steph Disparati proprio Dov'è l'amico, porca miseria Non ho un'idea Ma non è che non sia ancora sopra Non lo so Ma dici che era lui? Oh, non ho un'idea Sinceramente Allora, che cos'era questo personaggio? Un maschio e una femmina? Boh Perché sono quasi sicura Allora, sono quasi sicura Che quello che ho visto sopra nel portico era Aia, mi hanno sparato, Steph No, da dove? Cucine da cecchino Da dove, però? Cecchina sta male, cavolo Non lo so Porca miseria, dov'è? L'ho vista Ed è il compagno, vero? Sì Femmina con la skin buzz Esatto, è quello che stavo dicendo Che appunto questo mi è sembrato un maschio Quello aveva la skin femmina Quindi, ah vabbè È una storia È una storia Ti prego, uccidilo Mi sto godendo il fight Da qui Vai, Steph Porca miseria Ho due di vita Sei forte, Steph No, sono morto Curati E non ho cure Non hai preso bende L'hai preso tu Pensavo le avessi prese anche tu Accidenti a te Non te le posso lasciare Mentre sono in questa posizione Accidenti Cavolo, Steph È sopra di me? La vedi tu? No, da qui non vedo niente Da qui non vedo niente La vedo? Pensai che sono scappato È dietro di me È dietro di me È dietro di me Penso che mi finirà, Steph Infatti mi ha finito È dietro di me Sono morto L'ho ucciso Cavolo Cavolo L'ha fatta apposta Ha fatto il giro per finirmi E rovinarci la partita Porca miseria Vabbè, gioca, 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 gioca Sicura? Sì, sì Secondo me sì Sicura? Anche se poi io in tutto questo Ho aperto solo una cesta Anche io Ti vorrei dire questo È la 1 Fortiere Challenge Me ne avanzavano ancora due potenziali Da poter aprire Quindi secondo me sarebbe stato Un bellissimo game Ma vabbè Mi ha fregato quella cecchinata Sì Perché ero lì che ci osservava Chissà da quanto Lo sai che tu non devi stare mai ferma Porca miseria Te lo dico sempre Ma stavo correndo Io dico Ferry, non stare ferma Forse stavo correndo dritta Quindi non faccio Ok, ok Però lo sapevo che era lì sopra Cavolo, l'ho anche visto Allora È nervoso Ma sono dentro la zona? Sì Ok, io vado verso Pinacoli pendenti Non mi puoi dire di giocare safe Ferry No, no, vai Quando rimango solo Faccio il pazzo Hai visto? Sì Verso dove dove è correre? È indeciso? È indeciso Decidi Cavolo Eh, amico mio Quanto è rischiata la tua giovane vita Ci vuoi riprovare? È impavido Ok, questo lo sparta molto male Te lo dico Aspetta Ma dai, ma proprio in quel momento devi saltare Oh, c'è anche l'altro Maledetti Questo l'ha saltato, secondo me, vero? Può essere Vabbè, giusto Se salte lì è molto difficile Sì Essere hit out Quindi Oh, questo era vicino Questo era vicino Mi avranno visto? Probabile Fai attenzione Beh, se non sbuccherà con la finestra Era lì Eh Allora, meglio persi di vista Sì Sì, 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 sì Il discorso è Unico team di tutta la città Perché non sembra che stiano fightando minimamente Bella domanda Bella domanda Quindi, chissà se c'è anche qualcun altro Io ho 75 di vita senza shield Me ne sono appena accorto Non è che riesco a fare gli altri miei due forzieri Magari trovo uno shield Se li trovi Se li trovi Un benefit Ma secondo me qua hanno già lootato Vedi, guarda Ma non hai preso le bende da me? Ah sì, ti sei già curato Che cosa sto dicendo? Non pensavo di avere anche shield Vabbè, vabbè Niente Lì? No, è già aperto Non ce la posso fare What? Oh E vabbè Eh, però è rischioso Perché ci sono quelli No, poi non posso lootarli, Fer Solo gente che ammazzo io Ah, è vero, è vero Quindi, a priori non posso prendere Però Magari loro vanno E se loro vanno Steph cechina E se Steph cechina Noi vinciamo E se noi vinciamo Basta Basta Perché tanto non succede Quindi smettila Non lo so Hanno sparato? Penso che si stiano lootando ben bene Quel palazzo A sto punto, eh Sì Sembrava anche a me Sembra anche a me Comunque ho sentito un colpo Sparato Eccoli Eccoli E ma Porca miseria Ma poteva almeno one shotarlo? Eh, direi Ma scusa Usa un'altra arma Vai un po' più No No, sono uno contro due Con gente full armata Se non gioco sneaky Sono morto a priori Belle testoline che avete E dai Fatevi uccidere Che così noi siamo felici Comunque c'è altra gente che spara Che secondo me No, no, si li sento Però non capisco Sembrano un po' distanti Ma neanche troppo Perché sono armi leggere Se le sento da qua Vuol dire che non sono così lontani I tipi sono lì Sopra Sì, sì, sì Guarda Eh, sì Ma si è spostato in quell'attimo Era fermo dieci minuti Accidenti Maledizione Non ce la puoi fare Steph Non ce la puoi fare Allora Dove sono? Lì dietro Vai, affacciatevi Controllate Dov'è Steph? Non lo vedo Ma dai Ma perché fanno movimenti così strani Sti due? Li sto odiando Perché non vogliono essere presi Lo sanno benissimo Che tu hai il cecchino Steph Ma devono farsi colpire Perché è la One Forzier Challenge Se non ne luto altri La chiamerò la One Forzier Challenge Oh, alleluia Alleluia Occhio che l'altro Lo andrà a rianimare Io li rascio Occhio però Ovvio Sto rischiando Perché ci sono anche quelli lì dietro Ma mi chiamo Steph Per un motivo Perché muoio sempre Nel modo più sbagliato possibile Esatto Era appena stato rianimato Accidenti Oraccio Vuole andarmi sopra Ok Da cavolo è finito Che rischio Eh direi Non lo so fare Secondo me era sempre dentro la casa Ti conviene Boh Forse fare un rush Non so Cercare di capire Ma in effetti sta restando di nuovo l'amico Eh può essere Forse sei ancora più in alto Non lo so Non capisco i passi Più in alto rispetto a loro Credo Credo Non so Aiuto Mmm Sono fregato Ah Non mi hai dato la kill Quindi lui l'ha arrestato Esatto Da dove? Sembra che stiano sparando ad altri Comunque Sì ma non capisco dove Porca miseria È difficile da capire Qui Eh vabbè Come è giusto che si Erano in due Perché se riesci Lasciateci un like E' stata la prima volta Che avete detto il nostro video E potete considerare Lì dovevi iscrivervi Per non perdere Le altre episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima